Una task force formata da delegati diocesani e da esperti laici per costituire una pastorale del turismo con la volontà di suggerire a istituzioni, sindacati e associazioni la strada da percorrere per contrastare gli effetti dell'over turismo in penisola sorrentina e indirizzare l'attività di accoglienza turistica verso i valori dell'incontro e della crescita della persona nell'ambito di un turismo sostenibile. L'annuncio giunge nell'ambito del convegno dal titolo alla penisola sorrentina e il turismo del terzo millennio, over turism e sostenibilità, ospitato al palazzo municipale di Sorrento, promosso dall'associazione Area Nuova Penisola Sorrentina e dall'arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabbia. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. L'equilibrio giusto tra sviluppo e sostenibilità è tanto spesso sottile, è difficile da perseguire, noi lo facciamo quotidianamente, l'abbiamo fatto ultimamente soprattutto sollecitando discussioni sovraccomunali sull'accessibilità in penisola, istituendo insieme al prefetto di Napoli un tavolo prefettizio, ma non è solo questo il tema della sostenibilità, è un tema tanto complesso che appunto pone su due piatti della bilancia distinti, il progresso e lo sviluppo e la vivibilità da parte soprattutto dei nostri concittadini del territorio. Il turismo interpella anche la chiesa per la penisola sorrentina, infatti è una vocazione naturale che nasce dalla ricchezza ambientale e culturale. Le parole di Francesco Alfano, arcivescovo della diocesi di Sorrento Castellammare di Stabbia. Lo svago, il piacere, il divertimento deve tendere all'incontro delle persone, allo scambio anche di esperienze culturali e perché no alla costruzione di rapporti nuovi. È il nostro modo di voler contribuire alla nascita di un mondo nuovo. L'over turismo si può governare decongestionando le aree che ne sono colpite, operando prima con un'adeguata organizzazione del territorio, una più qualificata offerta dei servizi e una razionale programmazione degli arrivi. Ne è convinto il presidente dell'associazione Area Nuova Penisola Sorrentina, Michele Guglielmo. L'over turismo, la massa di turisti che grazie a Dio giunge da noi, sta creando dei grossi problemi sia di traffico sia di vivibilità ma soprattutto per le abitazioni dei giovani che non riescono a trovare una sistemazione perché ci sono o stanno sorgendo una miliade di bed and breakfast, molto dei quali privi di legalità, privi di autorizzazione, che impediscono ai giovani di formare una famiglia.